Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi bambini, iniziamo il nostro incontro di catechismo di questa settimana di Pasqua. In questo incontro parleremo della Ressurrezione di Gesù. Ma prima preghiamo insieme. Diciamo il Ti adoro del mattino. E per la maggior Tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. E ora diciamo un'Ave Maria per il nostro Santo Padre, Benedetto XVI, per i nostri cari, le nostre famiglie e anche per tutte le persone che soffrono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ed ora iniziamo, carissimi bambini, questo incontro sulla Ressurrezione di Gesù. Che cosa è avvenuto, bambini, quella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua? Cosa è avvenuto nelle prime ore, nelle primissime ore del giorno di Pasqua, quando ancora era buio sulla terra? E' avvenuto un fatto straordinario. Nel sepolcro di Gesù, che era una grotta chiusa da una pietra, nel buio del sepolcro un certo punto si accende una luce fortissima. Gesù risorge da morte. Il suo corpo luminoso e glorioso sale dal sepolcro portando soltanto i segni, le piaghe, delle ferite, dei piedi, delle mani, del costato. Ma tutta la sua persona era straordinariamente viva e luminosa. Nessuno ha assistito a questo fatto direttamente se non gli angeli e i santi del cielo. I soldati che facevano la guardia all'esterno del sepolcro, vedendo questo chiarore e sentendo il terremoto che aveva spostato la pietra dell'ingresso del sepolcro, vedendo la persona, la figura di Gesù, viva, sono sconvolti dalla paura, dal terrore. Cadono letteralmente a terra e appena possono scappano via. Al mattino di Pasqua, le donne, le discepole di Gesù, in primo luogo Maria Maddalena e anche altre donne, vengono al sepolcro per imbalsamare il corpo del Signore, come era usanza presso il loro popolo. Essi chiedevano chi ci aprirà il sepolcro, perché la pietra è tanto pesante e da sole non riusciremo. Ma appena arrivano, sono sorprese dal fatto che la pietra era già stata rotolata via e il sepolcro era aperto. Avvicinati si all'ingresso vedono una grande luce. Non c'è Gesù, ma c'è un giovane vestito di bianco. Questo giovane è un angelo che li invita ad avvicinarsi, ad entrare nel sepolcro e a guardare il luogo dove Gesù era deposto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Io so che voi cercate Gesù in Nazareno. Non è qui, è risorto. Le donne meravigliate e sconvolte per la sorpresa, ancora non riescono a credere a quello che è potuto succedere. Maria Maddalena è molto triste, non ha capito bene che cosa ha visto, che cosa ha sentito, e perciò piange. Maria Maddalena è in lacrime. Allora le si avvicina un uomo che le chiede, donna, perché piangi? Cosa è successo? E Maria Maddalena risponde, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Ecco perché piango. Ma se tu sai dov'è il suo corpo, dimmelo perché io vada. Io dovevo venire a finire di imbalsamare il suo corpo. Lo riporterò qui. E questo Signore le dice Maria La chiama per nome e Maria Maddalena riconosce da quel modo di chiamarla che quella persona non è altro che Gesù stesso. Lo riconosce e vuole trattenerlo, ma Gesù le dice Maria non trattenermi, io devo salire al Padre mio, devo salire in cielo, ma tu vai dai tuoi fratelli, cioè dagli Apostoli, e di loro che mi precedano in Galilea, che vadano in Galilea, e là mi vedranno. E Maria Maddalena se ne torna tutta contenta dagli Apostoli per dire loro che ha visto il Signore. Al racconto delle donne gli Apostoli rimangono stupefatti e increduli, tuttavia Pietro, che è il capo degli Apostoli, vuole andare immediatamente al sepolcro per vedere che cosa realmente è successo. Questo è Pietro e lo segue Giovanni. Stanno correndo tutti e due perché non vedono l'ora di arrivare nel più breve tempo possibile alla tomba per rendersi conto. Giovanni sarebbe anche più veloce di Pietro perché è più giovane, ma lascia che Pietro sia il primo ad entrare nel sepolcro. e scoprono anche loro con grande sorpresa che la tomba era vuota e il lenzuolo che avvolgeva il corpo del Signore è rimasto lì come afflosciato. nel pomeriggio stesso nel tardo pomeriggio due discepoli di Gesù se ne stavano tornando tristi al loro paese di Emmaus abbandonavano Gerusalemme e pensavano ora che Gesù era morto di dedicarsi al lavoro dei campi e di ritornare a casa. Si erano illusi seguendo Gesù pensavano di essere stati veramente delusi da ciò che era capitato ma Gesù si fa vicino a loro essi non lo riconoscono e credono che sia un viandante. Gesù li vede molto tristi. Cosa è successo che vi ha così sconvolto e raccontano della morte del loro Maestro e di come tutto era finito in una tomba. E Gesù insegnò loro con molta pazienza ciò che dicevano le scritture che cioè il Messia il Salvatore doveva sì morire ma anche risuscitare dai morti. I due discepoli lo ascoltavano con molto interesse e le sue parole scendevano nel loro cuore come un balsamo di consolazione e di speranza. Arrivati a Emmaus Gesù fa come se dovesse andare più avanti ma essi insistettero rimani con noi perché è tardi si fa sera resta con noi cena con noi. E così cenarono in una locanda ma quando Gesù fece per spezzare il pane pronunciare la benedizione prima del pasto essi lo riconobbero proprio dal gesto dello spezzare il pane e si dissero l'un l'altro è lui ma nello stesso tempo Gesù scomparve alla loro vista. Così anziché tornare a casa come avevano pensato all'inizio fecero il viaggio di ritorno verso Gerusalemme ed entrati nel cenacolo raccontarono come avevano visto Gesù e lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Ma rimasero sorpresi quando gli apostoli dissero che anche loro avevano visto Gesù. Gesù aveva visitato gli apostoli nel cenacolo. La sera della domenica di Pasqua gli apostoli erano riuniti chiusi all'interno per paura dei giudei Gesù entrò a porte chiuse pensate quindi il suo corpo attraversava anche le pareti e era un corpo glorioso un corpo spirituale e disse pace a voi li salutò tutti ed essi erano pieni di gioia perché avevano visto Gesù ma erano ancora increduli incapaci di capire ciò che avevano visto e udito dalle sue parole e così Gesù continuò ad apparire loro per 40 giorni nel cenacolo carissimi bambini la resurrezione di Cristo è una cosa molto bella pensateci bene si può risorgere dalla morte solo Gesù è risorto dalla morte ma anche tutti quelli che credono in Gesù che sono discepoli di Gesù possono risorgere da morte intanto l'anima vive oltre la morte e va in paradiso l'anima di coloro che hanno amato e seguito il Signore vanno in paradiso con Lui quindi bambini diciamo ora una preghiera all'angelo custode affinché ci aiuti a imparare bene quello che oggi abbiamo capito a vivere con questa speranza e con questa gioia che ci dà la resurrezione di Gesù se vorrete in questi giorni provate anche esprimervi con un disegno colorato per rappresentare Gesù che risorge oppure Gesù che appare ai suoi discepoli diciamo l'angelo di Dio angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste amen ci ritroviamo la prossima settimana nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo amen di Dio